ciao a tutti ragazzi bentornati in un nuovo video dove vi spiego un paio di cose che succederanno sicuramente un po più avanti allora intanto quel video che ho caricato ieri quello di pokemon luna era uno scherzo non lo porterò e però invece appena mi arriva il computer nuovo cercherò di portare la serie di the forest che ho scoperto che è veramente figo e sicuramente non camperemo tantissimo però ci proveremo è tipo per chi non lo sa the forest è tipo minecraft però con una grafica più reale praticamente siamo di dobbiamo sopravvivere in un'isola infestata da mostri e se riesco la porterò appena mi arriva il computer nuovo che riesce a reggere the forest perché questo qua ho provato mi sa ma non la supporta quindi sicuramente comunque uscirà the forest lasciate commenti se volete che faccia la serie completa cioè completa in senso andando avanti con voi oppure se non la volete vi lascerò comunque se riesco poi quando lo scarico il link sotto in descrizione del download altre cose sto aspettando che arrivi ancora il telefono in teoria dovrebbe arrivare oggi non lo so in caso vado a prenderlo io semplicemente non è stata trovata la via e quindi l'hanno messo in deposito comunque dovrebbe arrivare prossime ore oppure vado a prendermelo io altre cose e niente basta lasciatemi nei commenti se volete che porti qualcos'altro tipo qualche altro gameplay lasciatemi commenti vostre idee quello che volete e a breve comincerò a fare anche cucina con nuove elettriche mi sto organizzando per la location quindi questo era un breve aggiornamento su quello che succederà fatemi sapere comunque nei commenti quello che volete che porto quindi ci vediamo al prossimo video non vi preoccupate se non ho pubblicato video adesso ricomincerò a pubblicare un po' di video perché ero impegnato con lo stage e il lavoro ho finito adesso e quindi ho più tempo per editare i video quindi ci vediamo al prossimo video un saluto di frisante e bella ciao un saluto di frisante